Sono Davide Moretti, Sales Manager di Casio Italia, siamo qua oggi alla tappa di Firenze dell'Hot Show di connessioni, sia per presentare la nostra gamma di video proiettori senza lampa da laser led, sia per parlare durante il convegno di comunicazione con le immagini visuali in generale. Noi principalmente rivolgiamo, il nostro target principale sono università, sono scuole, sono aziende, sono chiunque abbia necessità di utilizzare la comunicazione visiva nei piccoli e medi formati. Sicuramente quello degli smart environments e del loro rapporto con gli integratori di sistemi è un tema da approfondire, è un tema molto interessante, anche oggi qua sono uscite molti spunti interessantissimi da tante persone che hanno un background diverso e soprattutto può permettere a chi progetta questi spazi che necessitano di competenze veramente diverse una dall'altra di avere delle nozioni di base e soprattutto sapere a chi rivolgersi per andare a progettare questi spazi. Siamo arrivati nel mercato della videoproiettore con una tecnologia un po' diversa, cioè una tecnologia che andava a eliminare la vecchia lampada ai vapore di mercurio e siamo andati a proporre un concetto di lamp free, cioè un videoproiettore senza questa lampada ma con una tecnologia alternativa. Grazie. Grazie.